E se poi, e se poi c'è lui Matteo Malatini di Dillo Facile. Ciao Matteo, ben ritrovato anche questo venerdì. Ciao Francesca, grazie. Matteo, di cosa mi parli oggi? Parliamo della videoinfografica. Che cos'è la videoinfografica? È un efficace strumento di video marketing che abbiamo ideato insieme agli amici della MPX Multimedia e che aiuta le aziende e i professionisti a promuoversi e a vendere online. Ok, quindi a che cosa serve nello specifico? Nello specifico la videoinfografica aiuta a raggiungere diversi obiettivi di comunicazione. Facciamo qualche esempio. È molto efficace per esprimere in maniera semplice e ordinata concetti molto complessi o presentare dati e statistiche. È molto utile nel personal branding, cioè nel branding di se stessi, per cui metterci la faccia aiuta a far crescere la propria autorevolezza. Così come è molto utile per il branding aziendale, quindi per presentare le aziende e poi per presentare e promuovere prodotti e servizi. Però scusami, che cos'è nello specifico? Perdonate la domanda. No, no, giustissimo. Cioè concretamente che cos'è? Certo, se parliamo di videoinfografica parliamo sostanzialmente di video e video marketing. Quindi siamo sempre nell'ambito della promozione tramite video. Perché utilizzare e promuovere un video? Perché promuoversi attraverso un video? Perché lo sappiamo, il web corre veloce. Per cui la cosa più difficile da fare è catturare l'attenzione del nostro potenziale cliente. Tramite un video promosso poi con tecniche di video marketing è possibile arrivare a parlare con le persone che davvero ci interessano e comunicare in maniera semplice, diretta ed efficace. Considera che la videoinfografica unisce la forza di cinque elementi sostanziali che sono le parole scritte, la voce, le immagini, la musica e i colori. E questo chiaramente aiuta ad attirare l'attenzione e quindi a vendere. Perfetto. E allora come possiamo, come possono i nostri ascoltatori affidarsi a voi per realizzare un'ottima videoinfografica? Io come sempre ovviamente invito chi ci guarda e chi ci ascolta se vuole ad approfondire la community di Lo Facile visitando il sito di riferimento che è www.dillofacile.it dove c'è anche la possibilità di scaricare gratuitamente il libro. E nel caso della videoinfografica invece se hanno piacere possono visitare il sito www.videinfografica.com e scoprire molti esempi che abbiamo realizzato in questi anni per i nostri clienti e quindi capire meglio contattandoci come vendere attraverso il video e il video marketing. Affidatevi ai professionisti, affidatevi anche a Matteo Malatini di Dillo Facile. Grazie Matteo di averci raccontato questo mondo che è la video infografica. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo come sempre qui su Radiolinea numero uno. Ciao grazie. Radiolinea numero uno.